E ora il sogno di un'altra donna, Valentina Petrillo, velocista, ipovedente, bolognese d'adozione, la prima transgender ammessa a una gara ufficiale tra le donne, l'ha intervistata Nelson Bova. Inizio a fare atletica in maniera seria nel 95, qui a Bologna, quando mi trasferisco a Bologna per studiare informatica. Sono stata sempre famosa per essere veloce, agli amici così, Fabrizio era famoso per la sua velocità. Valentina, a 46 anni, avrebbe già voluto partecipare alle Paralimpiadi di atletica ad Atlanta nel 1996. A detta dei miei allenatori avevo molte possibilità di andare all'Atlanta. Ma Valentina aveva troppi segreti, troppe cose da nascondere e non era serena. Tu hai passato tutta la tua vita nascondendo tante cose, anche la tua ipovisione. Si vedeva che avevo problemi di vista, ma io non li ho sempre rifiutati, anche con le mie fidanzatine non sapevano niente, nessuno ha saputo mai niente. E anche il suo sentirsi donna è sempre stato abilmente nascosto. Sono stata bravissima perché all'età di 4-5 anni giocavo con la mia amichetta e avevo capito che c'era qualcosa che non andava. Avevo paura, avevo paura di rovinare la vita dei miei genitori. Nella Napoli degli anni Ottanta, essere femminile, così si chiama Napoli, è proprio il più basso strato della società. Solo pochi anni fa la decisione definitiva di cambiare sesso. Nel 2017 io confido a mia moglie. Anche non programmando, questa cosa la confido. E la ripresa degli allenamenti per partecipare alle Paralimpiadi di Tokyo 2021. La sport è la mia vita. Le gambe sono la mia macchina, io non guido. Valentina, tuttora in transizione per il cambio di sesso, da oggi corre con le donne. In questi giorni è a Jesolo e sta competendo per i 100, 200 e 400 metri. Il suo è il primo caso al mondo. Oggi vado a gareggiare nel mio posto, quello è il mio posto, io sto con le donne. Diciamo che oggi entro nella storia. Lo può fare perché le terapie per il cambio di sesso abbassano il livello di testosterone e lo rendono compatibile con le prestazioni femminili. Fabrizio è stato fino al 2018 più volte campione italiano nei 100, 200 e 400 metri. Risultati che da Valentina non sono più raggiungibili. Dopo un anno ho perso praticamente 12 secondi sui 400, quindi il peggioramento è netto. Sulla storia di Valentina, con il supporto di WISP e Gruppo Trans, la regista bolognese Elisa Merighetti sta realizzando un documentario. Pensiamo che possa veramente contribuire anche a cambiare la percezione delle persone trans e ad aprire anche degli spazi nel mondo sportivo.